Senti, se ti facessi ascoltare una canzone di Julio Iglesias... Julio! Il grande Julio! 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 Lui? Comunque, Bruno Minniti? No! Sì! Bruno Minniti! Oh, caro mio! Va bene? Bruno è sempre un pirata ed un signore, ma vedi insieme a noi... Guarda che cosa ti facciamo vedere. Sì! Vedi un po'? Se ti riconosci... Sì! Eh, un bravo attore, un bell'attore. Sì, eh, sì. Ecco, sento già qualche... ecco! Che cosa vuoi? Lo sai. Volevo ricordarti che la rata è già scaduta. Come è scaduta? Ma se mi ho dato dei soldi poco tempo fa... E credevi che fosse finita così? Ai, 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 proprio non capisci, eh? Le rata le stabilisce il tuo amico, non tu. Beh, io non ho più una lira. Questi sono problemi... Io so soltanto che devo rispondere. E io non posso pagare! Amico, non ti conviene scaldarti, eh? Potresti pentirti, soprattutto se non... In cantesimo con Alessio Boni. In cantesimo con Alessio Boni. Questa edizione, perché ci sono state tante edizioni, sempre dei grandi successi. Sì, sì, sì. Forse quelle che hanno avuto... Era nel 91, hanno fatto credo 10, 11, 12... Nel 91, sì. Eh? Cioè, ma perché c'eri anche tu? Nel 91, sì. Nel 91. No, non pagava il telefono, vedi? È scaduta la rata. Ma io come se... Ma comunque, vogliamo dire che riesce benissimo in queste parti da cattivo. In realtà lo stavo tartassando, lo ricattavo spesso e volentieri, quindi lui stava impazzendo perché non trovava i soldi per pagare. Una fiction di grande successo. Sì. Ed ora passiamo alla musica con... Sì. Sono un pirata e un signore. Sì, l'hai detto prima. È il signor... È il signor del De Spagna. Julio Iglesias. Bruno Minniti. Grazie. A volte sono un bastardo e a volte un uomo, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi hanno capito, e altre che in mala fede mi hanno ferito. Ti dirò... Ti dirò... Ti dirò... Amo... Amo la luna e amo il sole. Amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi? C'è chi mi dice adesso che sono più buono, e la dove condannano oggi perdono. Non lo do l'appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Ti dirò... Ti dirò... Amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Amo la luna e amo il sole, ti dirò... Amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, più l'amore proprio che il pudore. Ti dirò... Bruno Minniti! Bruno, Bruno... Sono tutto un brivido, guarda... Sono quelle belle canzoni sentimentali. Posso? Posso disturbare? Prego, prego, prego. Grazie, gentile. Stavamo dicendo che siamo tutti un brivido, tutti. Sì, immagino. Anche il cuore, tutto il cuore... Il corassonda! Guarda il cuore, guarda... Tu non lo fare, lo faccio io. Guarda il cuore, Bruno, una cosa che... Sì, sì, vedo il brivido. Il corassonda! Il corassonda! Il corassonda! Tu no, tu no, tu ascolta solo, non devi... Non devi fare... No, non faccio niente! No, ti vedevo già... No, assolutamente! No, assolutamente! Qua, sto così, ferma! Perché mentre cantava, sa, aveva tutta una... Bella, bella questa canzone! E poi Minniti... Non ho notato, scusami, non ho notato! No, no, era presa, era lei era presa, no? A queste interpretazioni straordinarie di Julio Eglesias! Grazie, sei sempre così gentile, io ti ringrazio! No, le canzoni si prestano! Grazie, è gentile veramente! Grazie ancora!